Ben tornati a tutti. Oggi è martedì, 17 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo gemelli. Un martedì a due marce. La settimana inizia con una giornata sfacciatamente a due marce, buona la mattinata con la luna cuariana che ha sempre in serbo qualche regalo per voi, un'idea geniale, una soluzione rapida, un incontro interessante, un imprevisto che si converte in opportunità. La fregatura arriva nel pomeriggio, col trasloco della bianca signora in pesci, che descrive i sogni e le ambizioni più ardite, attualmente dinamizzato dal trigono di Marte trionfante nel settore finanziario. Chiarissimo il messaggio, potrete realizzare tutte le vostre aspirazioni ma nulla vi sarà regalato, vi toccherà sborsare materiali e utensili, ma le cose non si risolvono solo con i soldi, vi costeranno tempo, energia, magari qualche umiliazione, prima di arrivare al top e poter dire finalmente ce l'ho fatta. Il pensiero di qualcuno vola verso il consultante, potrebbe essere un ex partner, l'attuale, un amico, una persona interessata. Tuttavia il consultante potrebbe essere attraversato da un periodo di pessimismo ed incertezze. I single beneficiano di persone interessate a intrattenere un rapporto con loro ma non sempre ci riusciranno. In amore siate determinati se volete essere determinanti, coltivate gli impegni che vi potranno mettere in condizione di essere sempre voi a decidere. Passerete del tempo a capire come chiedere al vostro partner o alla persona che vi interessa di passare con voi molto più tempo. Molti single si sentiranno demoralizzati soprattutto in serata senza tuttavia averne un serio motivo. Abbiate più cura delle vostre cose, se vi scoprite distratti fate in modo che questo non permetta di trascurare i vostri impegni. Buone nuove per i nati dei lunedì, potrebbero arrivare notizie che attendete da tempo e che potrebbero cambiare, in alcuni casi, la vostra vita. Non lasciatevi distrarre dalle mancate opportunità, piuttosto cercate di concentrarvi su quelle attuali, in questo modo potreste sfruttarla pieno. Vi sentite particolarmente forti, però alla fine rinviate ogni decisione. L'attesa vi logorerà se non decidete in fretta. Matrimonio, associazioni, unioni saranno importanti. Uscita di soldi. Difficoltà e contrattempi in generale. Evita viaggi e spostamenti. Siete nei pensieri di una persona, soltanto se sapeste chi è e fareste i salti di gioia. Però non datevi pensiero, molto presto scoprirete chi è. Circostanze favorevoli si predispongono per voi, un progetto che accarezzate da tempo potrebbe essere avviato proprio in questo periodo. Non demordete e cercate di essere concreti. Qualche spessa di troppo vi metterà in ansia. Un bel giove ospitato nel vostro segno è la stella centrale del vostro cielo specie se siete nati nella terza decade gemellina e annulla piccole passeggere negatività. Ottimismo e fortuna non vi mancano, anche se magari la situazione generale non è così rosea come voi vorreste. Stupite i vostri conviventi con l'irresistibile senso dell'umorismo, la simpatia, la disponibilità altruistica al dialogo. In famiglia siete comunque il punto di riferimento e riuscite a tener testa a varie evenienze che si succedono di giorno in giorno. Per quanto riguarda la salute, questa è da ricercarsi soprattutto nella tranquillità emotiva. Il duo sole, mercurio contrario, proprio nel segno che corrisponde alla salute psicofisica, la vergine, può darvi lievi nervosismi, ma in seguito l'aria si rasserena. Martedì diviso in due, come la mela di biancaneve, ancora domenicale l'umore in mattinata, grazie alla luna acquariana in segno d'aria intrigono al vostro almeno finché urano non comincia a mettersi di mezzo disseminando sul vostro cammino qualche imprevisto. Ma il peggio arriva nel pomeriggio col passaggio della bianca signora in pesci, nel punto più alto del vostro cielo mentre Marte, con la quale forma un trigono piuttosto vivace, vi spinge a fare sciocchezze al ristorante, al centro commerciale, ovunque giri dal denaro. Non da incamerare però, solo da sperperare. Amore ed eros. Papa e ciccia col partner e con i vostri figli, se un rimprovero vi scappa subito sdrammatizzate scherzandoci su. Fondamentale mantenere l'armonia familiare, perfino con i suoceri sempre un po' brontoloni. Ma un debito di gratitudine dovete ammetterlo, anche loro si prendono cura della vostra progenie, non così facile da trattare. I vostri figli in apparenza tanto carini rivelano a tratti quel lato turbolento che ha sempre fatto parte della vostra vita. Il team Venere, Marte, tra bilancia e cancro, segni amici vostri, vi unisce alla vostra dolce metà. La delimitazione degli spazi è fondamentale nel rapporto d'amore e voi lo dichiarate sempre. In questa fase, però, è opportuno avere un rapporto più ravvicinato, senza paura di annullarvi o addirittura di perdere la vostra preziosissima libertà. Lavoro e denaro Qualche imprevisto riguarda chi per lavoro o per studio è costretto a spostamenti piuttosto importanti, peggio ancora se avete una trasferta di lavoro che vi conduce in stazione o in aeroporto già di buon'ora. Peccato non abbiate calcolato l'imprevisto, sempre più verosimile di questi tempi, un volo cancellato, un treno in ritardo bastano a mandarvi in tilt scombinandovi la giornata, facendovi perdere non solo tempo ma anche denaro. La scuola è appena iniziata ma l'interrogazione a sorpresa può già capitare, eccesso di zelo da parte dell'insegnante, fedele al proverbio, chi ha tempo non aspetti tempo. Prudenza anche al volante, vi basta distrarvi un attimo per bocciare da qualche parte o ritrovarvi tamponati. Nulla di grave sul piano fisico, ma su quello meccanico ahimè sì. Siete attivissimi e capaci di macinare un'enorme quantità di lavoro. Venere vi riempie di energie specie se siete nati in maggio, tanto di tipo fisico che intellettuali. Benessere. Anche quando siete di buon umore il tono nervoso è sempre alto, sarà una caratteristica dei segni d'aria, ipercritici e sempre in movimento come voi. Importante non dimenticare che appunto l'elemento aria vi rende più fragili sotto al profilo del sistema respiratorio, basta un cambiamento meteo o un'acquazzone per scatenare una fastidiosa raucedine o, peggio in combutta con la sigaretta che non riuscite a mollare, quel bruciorino alla gola che reclama un rimedio tempestivo. Propoli, erisimo o almeno il mitico vin brulè della nonna. Decisamente poco estivo ma sempre buono. Per lei, la prossima domenica sarà già autunno e allora non lamentatevi se continuando a girare in canotta vi viene il mal di gola. Ricordatevi delle virtù del miele e della propoli. Per lui, cena di lavoro indetta da voi stessi o da qualcuno del vostro staff. Ottimo cibo, ricette scelte con cura, ma anche il vino deve essere all'altezza della situazione, un buon vino riscalda gli animi e dà il coraggio di dire tutto ciò che passa per la mente. Colore delle emozioni, rossa rubino. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.